Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Margie Velma Ballard, o semplicemente Velma, nasce in una zona rurale della Carolina del Sud, ma si trasferisce a Fayetteville, nella Carolina del Nord, quando è ancora una bambina. I suoi genitori, Murphy e Lillian Ballard, mettono al mondo ben nove figli, di cui Velma è la secondogenita. Durante l'infanzia Velma non vive anni felici, anzi, cresce in un contesto familiare tumultuoso. I Ballard sono poveri, in casa non hanno né elettricità, né acqua corrente e addirittura nemmeno un bagno. Per espletare i loro bisogni fisiologici, si recano in un bosco nei dintorni di casa. Inoltre, Murphy, il padre di Velma, è un uomo violento che si scaglia contro di lei per picchiarla. Sua madre, Lillian, ne è succube e lo teme molto. Pur consapevole che il marito non sta crescendo i figli adeguatamente, non fa alcun tentativo per fermarlo. Lui l'ha presa spesso a pugni, ecco perché lei è riluttante a intervenire mentre Murphy punisce bambini. Durante gli anni del liceo, Velma inizia a frequentare una chiesa battista locale e viene battezzata lì nel 1948. Più o meno nello stesso periodo, Velma incontra Thomas Burke. Lui le piace a un anno in più di Velma e si è dimostrato interessato a lei. Ma, un giorno, il padre di Velma affronta Thomas e gli dice che non gli sarà permesso di uscire con sua figlia fino a quando lei non compirà 16 anni. Nonostante Thomas abbia aspettato pazientemente il sedicesimo compleanno di Velma, Murphy continua a impedire a sua figlia di uscire con chiunque. Velma però non si arrende, insiste a lungo, finché suo padre non cambia idea. Murphy permette a Velma di uscire con Thomas a due condizioni. Uno, deve essere sempre presente anche un'altra coppia con loro. Due, Velma deve tornare a casa massimo entro le 22. Velma non approva queste regole, ma le segue meticolosamente per non essere punita. Quando compie 17 anni, Thomas le chiede la mano. Velma vuole allontanarsi dai suoi genitori, è stufa di vivere in quell'ambiente. Dunque, accetta felicemente la proposta di matrimonio. Murphy però è di nuovo contrario. Arriva addirittura a piangere davanti a Velma per convincerla a non compiere quel passo così importante. Ma Velma ha già preso la sua decisione ed è sicura di voler sposare Thomas. Così nel 1949 la coppia scappa a Dylan, nella Carolina del Sud. Entrambi i ragazzi lasciano la scuola poco dopo essersi sposati, con grande dispiacere dei genitori di Velma. La coppia è giovane, ma i due sono profondamente innamorati. Infatti trascorrono con estrema felicità i primi anni del loro matrimonio. Thomas inizia a lavorare in una fabbrica testile, mentre Velma viene assunta in una farmacia. Ma ben presto lascia il lavoro perché lei e il marito vogliono mettere su famiglia. Thomas accetta un impiego meglio retribuito come fattorino della Pepsi, consentendo a Velma di rimanere a casa a crescere i bambini che arriveranno. Nel 1951 nasce il loro primo genito, Ronnie. Poi nel 1953 nasce una femminuccia, Kim. Nel 1958 Velma riprende a lavorare, fa il turno di notte in una fabbrica testile per guadagnare qualche soldo in più. Di conseguenza lei e Thomas passano meno tempo insieme, ma non pare che il loro matrimonio ne risenta. Tutto però cambia nel 1962, quando Velma si ammala. È costretta a subire un'isterectomia, un intervento chirurgico che comporta l'asportazione dell'utero. Dopo l'operazione Velma soffre di forti mal di schiena, così il suo medico le prescrive degli antidolorifici. Il problema è che Velma sviluppa una dipendenza per questi farmaci che sono piacei. Di conseguenza il suo comportamento cambia radicalmente, mentre sprofonda verso la dipendenza in maniera inesorabile. In queste circostanze lei e Thomas iniziano a litigare, frequentemente, soprattutto per un motivo. L'uomo si è unito al club locale Jaycees e trascorre moltissimo tempo nei bar con altri membri del club. Velma però odia l'alcol, non lo accetta affatto, tanto che quando trova delle bottiglie in casa le svuota nel lavandino della cucina. Questa sua reazione però non scoraggia Thomas, quando vede Velma buttare via l'alcol, lui semplicemente si alza, esce di casa e va a comprarne in quantità maggiori. Una notte del 1967 Thomas è ubriaco fradicio e viene arrestato per guida in stato di ebbrezza, mentre torna a casa. Gli sospendono la patente, dunque perde il lavoro come fattorino della Pepsi. Per compensare i mancati guadagni, Velma accetta un secondo lavoro come commessa di un grande magazzino. Nel frattempo la tensione tra i due è crescente. Thomas è mortificato per quanto accaduto. Adesso, insieme all'alcol, lo soffoca anche una tremenda tristezza. In poco tempo inizia a soffrire di depressione e a bere sempre di più. Secondo la versione di Velma, qualche volta Thomas beve fino a svenire. Nonostante ciò, alla fine l'uomo riesce a trovare un nuovo impiego e a limitarsi nel consumo di alcol, pur continuando a bere quotidianamente. In questi anni Velma si sente sempre più sotto pressione, sia a livello mentale che emotivo. Deve svolgere due lavori, preoccuparsi per suo marito, occuparsi della casa. Lo stress di Velma è così alle stelle che un pomeriggio suo figlio Ronnie, rientrando a casa da scuola, la trova svenuta sul pavimento della cucina. La donna sta per avere un esaurimento nervoso, dunque viene ricoverata in ospedale per una settimana. Quando viene dimessa, Velma stringe tra le mani una prescrizione per l'assunzione di tranquillanti, che dovrebbero aiutarla ad affrontare lo stress. Quel farmaco contribuisce sicuramente a combattere la sua ansia, ma presto Velma inizia ad assumere il doppio, poi il triplo, poi il quadruplo del dosaggio raccomandato. Velma prende appuntamento con diversi medici e richiede prescrizioni a ciascuno di loro, senza considerare gli affetti avversi derivati dall'abuso di medicinali. I suoi figli, però, si accorgono che lei ha un problema. In passato avevano visto la madre svuotare le bottiglie del padre contenenti alcol nel lavandino. Così iniziano a fare lo stesso con i farmaci di Velma. Eppure, non serve a niente. Esattamente come nel caso di Thomas e l'alcol, Velma compra un quantitativo maggiore di tranquillanti e li nasconde. In un'occasione in particolare, pare nasconda le boccette delle pillole tra i bigodini che indossa per la piega. Il 21 aprile 1969 inizia come un giorno qualunque a casa Burke. I bambini sono entrambi a scuola, mentre Thomas è rincasato da poco dal turno di notte in fabbrica. Velma nel frattempo si prepara per andare in lavanderia. Quando arriva in cucina, nota che Thomas è praticamente svenuto su una sedia con la sigaretta ancora accesa in mano. Infastidita, gliela sfila e la spegne rapidamente. Thomas si sveglia e, senza dire nulla, incespicando sulle scale, salla al piano di sopra per mettersi a letto. Velma raccoglie la biancheria ed esce. Ma quando rientra, si ritrova la casa avvolta in un fumo denso, così chiama immediatamente i vigili del fuoco. Sembra che Thomas abbia dimenticato un'altra sigaretta accesa mentre era a letto. Era troppo ubriaco per rendersi conto di ciò che stava succedendo. Il materasso prende fuoco. I vigili riescono a contenere l'incendio impedendo alle fiamme di estendersi oltre la camera da letto. Una volta spento l'incendio, individuano Thomas. È morto a causa del fumo inalato. Quando viene informata della sua morte, Velma crolla. Sembra estremamente addolorata. A soli 36 anni si ritrova improvvisamente vedova e deve prendersi cura dei suoi due figli. Questa situazione non fa altro che peggiorare la sua ansia, alimentando la dipendenza da quei farmaci. Nel novembre del 1969, Velma incontra Jennings Barfield, il fratello di uno dei suoi colleghi. Come Velma, anche lui è vedovo da poco. I due iniziano a frequentarsi e decidono di sposarsi l'anno successivo, ossia il 23 agosto del 1970. Questa volta Velma si spose in chiesa, cosa che non aveva potuto fare con Thomas, visto che erano letteralmente fuggiti senza farsi più vedere né sentire da un giorno all'altro. Jennings ha 15 anni in più di Velma ed è afflitto da diversi problemi di salute. Soffre di enfisema polmonare, una patologia che comporta un deterioramento del tessuto degli alveoli polmonari e una loro minore capacità di scambiare ossigeno e anidride carbonica con il sangue. Inoltre l'uomo è diabetico, ha la pressione alta e soffre di una malattia cardiaca. Proprio a causa delle sue precarie condizioni di salute, era stato costretto a ritirarsi anticipatamente dal suo impiego nel servizio civile. A fronte di ciò percepisce una pensione di invalidità ogni mese. Pochi mesi dopo il matrimonio, Jennings trova Velma svenuta sul pavimento e la porta d'urgenza in ospedale. Innorridisce quando apprende che la moglie aveva assunto troppi tranquillanti, andando in overdose. Jennings non sa che Velma abusa di questi farmaci da anni. Lui ha i suoi problemi di salute che non sono di poco conto, quindi si rifiuta di riportare Velma a casa quando viene dimessa dall'ospedale. Decide infatti di accompagnarla dai suoi genitori affinché la cudiscano loro. Velma promette a Jennings di farla finita con tutte quelle pillole e il marito accetta di darle una seconda possibilità. In realtà la donna non ha intenzione di mantenere la promessa e qualche mese dopo, a febbraio, va di nuovo in overdose e viene ricoverata in ospedale un'altra volta. Jennings però non ha intenzione di darle una terza possibilità, non se ne parla proprio. Quindi il 19 marzo del 1971 l'uomo chiama il suo avvocato per dirgli che vuole avviare la procedura di divorzio. E i due stabiliscono di incontrarsi il 22 marzo. Ma il 21 marzo, proprio il giorno prima, dopo meno di sette mesi di matrimonio, Jennings Barfield muore all'età di 54 anni. Velma sostiene che il matrimonio è fallito solo per colpa di Jennings e insiste sul fatto che l'uomo si rifiutava di seguire una dieta bilanciata e non ascoltava mai consigli del suo medico. Aggiunge pure che la sua testardaggine l'ha portata a fare un uso sempre maggiore di pillole. Velma diceva a suo figlio che non aveva intenzione di prendersi l'enorme responsabilità di accudire un marito invalido che, per di più, si rifiutava di seguire le indicazioni del dottore. Non poteva affrontare quello stress, così aveva trovato una soluzione a dir poco agghiacciante, ossia l'arsenico. Ecco com'è andata. Velma compra un contenitore di arsenico e ne mette un po' nella cena di Jennings. L'uomo in breve tempo inizia a sentirsi male, ha una forte nausea e viene colpito da intensi crampi addominali. Soffre così tanto che gli è difficile respirare. Velma lo porta in ospedale, ma i medici non sono in grado di fare nulla per lui. Le sue condizioni peggiorano rapidamente, tanto che muore quello stesso pomeriggio del 21 marzo, al ritorno dall'ospedale. Per i medici la causa ufficiale della morte è un'insufficienza cardiaca. L'uomo non era in buona salute ormai da anni, quindi questa morte non risulta sospetta. Velma interpreta alla perfezione la parte della vedova in lutto e i medici non immaginano affatto che lei abbia a che fare con la morte del marito. Nell'autunno del 1971 la vita di Velma sta crollando letteralmente a pezzi. Ha appreso che suo figlio Ronnie dovrà partire per il Vietnam e la notizia le causa una crisi profonda. Così assume una quantità ancora maggiore di quei tranquillanti che ormai prende ogni giorno da diversi anni. A ottobre va di nuovo in overdose e trascorre tre settimane in ospedale. Intanto a casa sua scoppia un incendio. Dopo l'evento a Velma e sua figlia Kim non resta che trasferirsi dei genitori di Velma. Inoltre le prestazioni lavorative della donna diminuiscono a vista d'occhio. I colleghi si lamentano perché arriva sempre in ritardo e per di più è palesemente stordita da qualche sostanza. A dicembre Velma si licenzia. Se Velma spera che il 1972 sarà un anno migliore per lei rimarrà delusa. A suo padre viene diagnosticato un cancro ai polmoni. L'uomo perde la vita all'età di 61 anni. Suo figlio che era riuscito a evitare il Vietnam annuncia che si sarebbe sposato. Velma è inconsolabile e si rifiuta di dargli la sua benedizione. E' profondamente delusa. Sostiene che avrebbe dovuto essere la donna più importante della vita di Ronnie. L'idea che lui si sposi è inaccettabile per lei. Nel frattempo Velma continua a richiedere prescrizioni a più medici. Ma la sua dipendenza è talmente peggiorata che non riesce a farsi bastare quelle pillole per un mese. Disperata prova a falsificare le prescrizioni. Ma viene beccata e arrestata nel marzo del 1972. Poiché non ha precedenti penali, il giudice ha magnanimo con lei. Le sospende la pena e le permette di evitare il carcere. Velma dunque si limita a pagare una multa. Le difficoltà per Velma proseguono anche per tutta l'estate del 1972. E' disoccupata e decide di rubare degli assegni a sua madre per pagare le prescrizioni ai vari medici. Lelian, sua madre, si rende conto di cosa sta succedendo e si reca in banca. Chiede che venga verificata la sua firma su tutti i suoi assegni prima di consentire a chiunque di incassarne uno. Dopodiché si preoccupa di nascondere per bene il suo libretto degli assegni. Sa benissimo che è Velma la colpevole. Velma, nel disperato tentativo di ottenere più pillole e incapace di trovare un lavoro, contrae un prestito di 1000 dollari a nome di sua madre, senza dirglielo. Utilizza la casa di Lelian come garanzia e falsifica la firma della madre sul documento della domanda di prestito. Velma non sa come rimborsare il prestito, finché non si verifica una tragedia che, per lei, avrà risvolti vantaggiosi. Infatti, la donna stava frequentando un settantenne che aveva incontrato durante una delle sue degenze in ospedale, ma ad agosto lui muore a causa di un incidente d'auto. L'uomo aveva nominato Velma beneficiaria della sua pollizza assicurativa sulla vita dal valore di 5000 dollari. Con questi soldi, Velma riesce a ripagare il prestito senza che sua madre ne venga a conoscenza. Spende il resto in prescrizioni, col risultato che a ottobre è di nuovo al verde. A novembre riesce a ottenere un altro prestito di 1000 dollari a nome di sua madre, questa volta utilizzando l'automobile di Lelian come garanzia. Passa un altro mese, Velma non lavora e a dicembre è di nuovo senza soldi. Sa che non può richiedere altri prestiti a nome di sua madre, ma deve assecondare la propria dipendenza. Ostinata riesce a trovare un vecchio libretto degli assegni di Jennings Barfield. Il conto è chiaramente stinto, ma questo non scoraggia Velma. Durante la settimana successiva sottoscrive un totale di 5 assegni, ovviamente non validi, e li usa per ottenere i suoi farmaci. Con l'avvicinarsi delle vacanze, Velma sta andando in crisi, ma riesce ancora a nascondere i suoi problemi. L'intera famiglia si riunisce a casa di Lelian in occasione della vigilia di Natale. Velma e sua madre trascorrono ore in cucina per preparare la cena da gustare tutti insieme. Quando la famiglia finisce di mangiare, Lelian prende in disparte uno dei suoi figli per mostrargli una lettera ricevuta dalla banca, nella quale si avvisa che il pagamento del prestito era scaduto. Se Lelian non lo avesse saldato, la banca si sarebbe riappropriata della sua macchina. Insomma, la donna è confusa, la sua auto è già stata pagata e soprattutto lei non ha richiesto alcun prestito. Il figlio la rassicura dicendo che quello probabilmente è un errore della banca. Le consiglia di chiamare dopo le feste per chiedere delucidazioni. L'ansia di Velma peggiora quando l'anno in questione, il 1974, sta per volgere al termine. Sebbene lei cerchi di comportarsi come se nulla la smuovesse, ormai è in un costante stato di panico. Il primo pagamento del prestito è scaduto. La banca manderà qualcuno a riprendersi l'auto di sua moglie, a meno che lei non riesca a trovare immediatamente dei soldi. Mentre è in farmacia in attesa che una delle sue prescrizioni venga eseguita, nota un contenitore dall'aspetto familiare su uno degli scaffali. Veleno per formiche e scarafaggi. Velma individua in quel recipiente la risposta a tutti i suoi problemi. Il 27 dicembre, infatti, Lelian si ammala. Ha una nausea fortissima e non riesce a ingerire nulla senza vomitare. Velma osserva sua madre mentre si agita sul letto, preda di dolori lancinanti. Quando arriva il fratello di Velma e vede che sua madre sta vomitando sangue, chiama subito un'ambulanza. Lelian viene portata ad urgenza in ospedale, ma ormai non c'è più niente da fare. I medici dicono alla famiglia che la donna è morta di gastroenterite. Velma ovviamente conosce la verità. Quel giorno aveva preparato il pranzo per sua madre e l'aveva condito con una generosa quantità di arsenico. Dopo la morte di Lelian, Velma si trasferisce da sua figlia Kim, che si era sposata di recente. Forse spera in un nuovo inizio, ma non ci vuole molto prima che il passato torri a perseguitarla. A febbraio, due agenti di polizia interrogano Velma sulla serie di assegni che aveva utilizzato a dicembre. Velma viene arrestata e portata nel carcere della contea. Tuttavia, non viene perquisita a fondo all'arrivo delle autorità. Riesce così a portare in prigione alcuni dei suoi tranquillanti. E non appena viene rinchiusa in cella, Velma assume tutte le pillole in una volta. Viene ritrovata svenuta sul pavimento e portata in ospedale, dove rimane per alcuni giorni prima di essere incarcerata di nuovo. Velma a questo punto deve affrontare un processo. Il giudice la condanna a scontare sei mesi di carcere. Quando viene rilasciata la donna senza un impiego e una casa propria, pensa come reinventarsi. Anche se non ha alcuna esperienza di lavoro nel settore sanitario, si propone come badante per anziani. Il suo primo cliente, poco dopo la sua assunzione, deve trasferirsi in una casa di cura. Ma una delle infermiere domiciliari, rimasta colpita da Velma, la consiglia a Montgomery e Dolly Edwards. Montgomery ha 94 anni e soffre di diabete. La malattia gli ha già portato via la vista ed entrambe le gambe. Di conseguenza è costretto a letto. Dolly, di 10 anni più giovane di suo marito, era sopravvissuta al cancro. Ma ha una colostomia e alcuni problemi di mobilità. Entrambi hanno bisogno di una badante che li possa assistere e Velma inizia a lavorare per loro nel 1976. Questa sembra essere la soluzione ideale per Velma. Sebbene lei e Dolly litighano spesso, gli Edwards sono felici dell'assistenza da lei fornita. Velma lavora per la coppia da circa un anno, quando Montgomery muore per cause naturali il 29 gennaio 1977. La donna accetta di continuare a lavorare per Dolly, ma afferma che l'anziana la comanda bacchetta. Le dà troppi ordini e la tratta come una bambina. Un pomeriggio, mentre è al supermercato, Velma decide che non vuole più avere a che fare con Dolly, ma non vuole rinunciare ai soldi. Così compra un'altra scatola di veleno per formiche e scarafaggi. Quella sera Velma aggiunge il veleno alla cena di Dolly e l'anziana donna si ammala rapidamente. Muore il 28 febbraio, meno di un mese dopo il marito. Entro dieci giorni Velma trova un altro lavoro. John Henry Lee, di 80 anni, ha bisogno di assistenza per sua moglie di 76 anni, di nome record. La donna ha problemi di mobilità a causa di una gamba rotta e John non è in grado di prendersi cura di lei da solo. Qualcuno che frequenta la loro stessa chiesa gli aveva fatto il nome di Velma, così lei si era trasferita a casa dei coniugi Lee quasi immediatamente. I Lee forniscono a Velma un posto dove vivere, le offrono tutti i pasti, ma lei è sempre a corto di soldi. Lo stipendio non basta per pagare tutte le sue pillole e Velma decide di rubare un assegno in bianco da Lee e incassarlo. John ovviamente nota immediatamente che sul suo conto mancano dei soldi e chiama la polizia. Quando l'ufficiale che si occupa della questione suggerisce che Velma possa essere la responsabile del furto, gli ribattono che non è possibile. Sono così certi della sua innocenza che si rifiutano persino di parlargliene, ma seguono il consiglio dell'ufficiale, spostare il libretto degli assegni in un luogo più sicuro. Velma decide che è giunto il momento di avvelenare John, in modo che si dimentichi dei soldi mancanti. L'uomo sta male per tutto il mese di maggio, ma le sue condizioni peggiorano intorno al 1 giugno, quando finisce in ospedale. I medici non riescono a salvarlo e John muore il 3 giugno. Poiché soffriva di malattie respiratorie, i dottori attribuiscono la sua morte a un'insufficienza cardiaca. Velma continua a prendersi cura di record Lee per altri due mesi prima di licenziarsi. Infatti Velma sta uscendo con un uomo ed è stanca di convivere con una donna anziana. Decide di affittare una casa mobile, ossia una roulotte, e accetta un lavoro presso una struttura locale. Le figlie di record sono tristi nel vedere Velma andare via. Solo più avanti si renderanno conto che il suo allontanamento ha evitato alla madre grossi rischi. Velma inizia a frequentare Stuart Taylor nell'estate del 1977. Stuart ha 56 anni e ha circa 10 anni in più di Velma, ma è in perfetta salute e lavora ancora come agricoltore. Sta per divorziare e ha in programma di sposare Velma. Un giorno di novembre Stuart va a prendere Velma alla casa mobile. Mentre si trova fuori dalla porta sente un lamento provenire all'interno della roulotte. La porta d'ingresso è aperta. Stuart entra con cautela e chiama la compagna. La trova nella sua camera, imbavagliata e legata sul letto. Velma si inghiozza mentre spiega a Stuart che stava per entrare nella doccia quando era apparso un uomo. Le aveva lanciato un asciugamano sopra la testa, poi le aveva imbavagliata e legata. Dopo averle teso l'agguato, però, l'intruso se ne era andato semplicemente, senza farle del male. Stuart è inorredito e chiama immediatamente la polizia. L'ufficiale a cui si rivolge, però, è perplesso. A quanto racconta Velma, l'intruso non le ha detto né rubato nulla. Tuttavia Velma sembra scossa dall'incidente e Stuart cerca di calmarla. Le dice che non avrebbe passato un'altra notte in quella roulotte perché sarebbe andata a casa con lui. L'ufficiale nota che Velma si rallegra a seguito di questa affermazione e si rende conto che probabilmente la donna aveva organizzato tutto proprio per conseguire questo obiettivo. Vivendo sotto lo stesso tetto, Velma e Stuart iniziano a discutere spesso. I litigi si intensificano quando Stuart scopre che Velma gli aveva rubato uno dei suoi assegni e lo aveva usato per prelevare mille dollari dal suo conto corrente. La minaccia di chiamare la polizia, ma Velma riesce a dissuaderlo. Stuart non chiude i rapporti con Velma, ma sente che c'è qualcosa di strano. Entro la fine di gennaio Velma è di nuovo in preda al panico. Ha rubato un'altra segna a Stuart che non ha ancora scoperto il furto, ma sa che presto o tardi arriverà via posta il suo estratto conto mensile. A quel punto non potrà più nascondere l'ennesimo furto. A meno che... Ancora una volta Velma si ritrova con un problema da risolvere e alla svelta e dunque imbocca la solita via d'uscita, l'avvelenamento. Acquista una scatola di veleno per formiche e scarafaggi. Il 31 gennaio 1978. Quella sera Velma sede a Stuart la tossica cena. Stuart le aveva promesso di portarla a Fayetteville per vedere uno dei suoi evangelisti televisivi preferiti. I due escono di casa dopo aver terminato di mangiare e Stuart affronta il viaggio di Ventimiglia senza alcun disturbo. Ma, mentre cercano posto per ascoltare l'evangelista, Stuart accusa dei forti crampi allo stomaco. All'inizio cerca di ignorarli, ma presto quel dolore diventa insopportabile. Stuart non vuole rovinare la serata a Velma, che è lì ad ascoltare il suo amato predicatore. Così le dice che sarebbe andato a sdraiarsi in macchina per un po'. Sarebbe tornato dopo essersi ripreso. L'intervento termina un paio d'ore dopo, ma di Stuart non c'è traccia. Velma dunque si dirige verso il parcheggio e lo trova sdraiato sul sedile posteriore della sua auto mentre si contorce per il dolore. È chiaro che sa troppo male per guidare, così Velma si posiziona al posto di guida. Durante il tragitto sono costrati a fermarsi almeno una volta, in modo che Stuart possa vomitare sul ciglio della strada. Una volta tornati a casa, Stuart si trascina a letto, in agonia. Velma non è particolarmente preoccupata. Gli dice che probabilmente si tratta di un'influenza. Loro assicura che il mattino dopo si sarebbe sentito davvero molto meglio. La mattina seguente, tuttavia, Stuart non sta affatto meglio. È incapace di mangiare o bere perché vomita qualsiasi cosa. Si lamenta perché braccia e gambe gli bruciano tantissimo, come se stessero andando in fiamme. Velma finalmente si decide a portare Stuart al pronto soccorso. Quando le viene chiesto della sua storia medica, Velma spiega che Stuart è in salute, ma anche che è un forte bevitore. I medici gli diagnosticano una gastrite causata dal consumo eccessivo di alcol. Gli prescrivono una ricetta per un antiacido e dicono a Velma di assicurarsi che rimanga idratato, affidandolo alle sue cure. Il giorno seguente Stuart si sente un po' meglio, ma sta di nuovo male dopo aver mangiato uno stufato preparato da Velma. La donna si trova costretta a chiamare un'ambulanza. Meno di 24 ore dopo essere stato dimesso, Stuart è di nuovo al pronto soccorso. Sfortunatamente questa volta i medici non sono in grado di fare nulla per lui. L'uomo muore poco dopo essere arrivato in ospedale. Velma contatta i membri della sua famiglia che, sotto shock, si riuniscono in ospedale. I suoi figli sono increduli. Stuart aveva solo 56 anni ed era in perfetta salute. Non capiscono come possa essere morto all'improvviso per un disturbo allo stomaco. Anche il suo medico ammette che la morte di Stuart è insolita e suggerisce alla famiglia di consentire l'esecuzione dell'autopsia. Suggerimento che i figli di Stuart colgono immediatamente. Il corpo di Stuart viene affidato al dottor Bob Andrews, un medico legale affinché esegua l'autopsia. Il dottor Andrews nota alcune anomalie del fegato, quindi asporta con cura una parte del tessuto epatico e lo invia al dottor Paige Hudson, il medico legale principale dello stato della Carolina del Nord. Quando il dottor Andrews chiama il dottor Hudson per informarlo che stanno arrivando dei campioni di tessuto, il dottor Hudson gli chiede di descrivere i sintomi accusati da Stuart prima della sua morte. Non appena il dottor Andrews glieli indica, il dottor Hudson capisce che non avrebbe avuto bisogno di esaminare il tessuto epatico dell'uomo per determinare cosa lo aveva ucciso. Era arsenico. Quella che era iniziata come un'indagine medica di routine si trasforma ben presto in un'indagine penale. Alla famiglia di Stuart viene detto che il rilascio dei risultati ufficiali dell'autopsia avrebbe chiesto alcune settimane. Nel frattempo Velma riesce a celare abilmente la sua preoccupazione. Sebbene lei e Stuart non fossero sposati, recita la solita parte della vedova in lutto e le riesce pure benissimo. I figli di Stuart credono davvero che Velma sia devastata dalla morte del padre. Le dicono che può esaminare gli effetti personali di Stuart e prendere quello che vuole. Si commuovono quando Velma dice loro che desidera solo tenere il suo anello di fidanzamento e il set nuziale che Stuart aveva acquistato per loro. Non si accorgono che la donna ha già iniziato a spendere i soldi di Stuart. Il giorno della sua morte, Velma aveva rubato un altro dei suoi assegni e lo incassa per 300 dollari. A marzo la polizia sa che Velma ha ucciso Stuart e sospetta che non sia la sua prima vittima. Inizia dunque ad approfondire i casi di tutte le persone che erano morte mentre ricevevano le sue cure. Ciò che gli agenti trovano li lascia senza parole. Hanno a che fare con una serial. Richiedono e ritirano i documenti stilati alla morte di Lillian Ballard, Dolly Edwards e John Henry Lee. Rimangono scioccati quando lengono che la causa della morte per tutti è gastroenterite. Fanno resumare il cadavere di Jennings Barfield e scoprono che anche lui era stato avvelenato con l'arsenico. Armati di questi risultati sottopongono Velma a un interrogatorio. Subito dopo la morte di Stuart, Velma aveva compilato una serie di assegni falsi e, quando un sabato mattina la polizia si presenta a casa sua, pensa che la vogliano interrogare per questo. Accetta dunque di essere condotta alla stazione di polizia. Gli investigatori iniziano l'interrogatorio chiedendole proprio di quegli assegni. Poi però le fanno domande su Stuart. È chiaro che Velma non è preparata. Quando uno degli investigatori le chiede se fosse al corrente che Stuart era morto per avvelenamento d'arsenico, lei reagisce con stupore alla notizia. La sua sorpresa si trasforma rapidamente in indignazione quando percepisce che sospettano di lei, proprio di lei. Velma quindi dice agli investigatori che non sarebbe rimasta lì a subire le loro accuse. Gli investigatori le ricordano che non è in arresto, dunque è libera di andarsene in qualunque momento. Velma esce dalla stazione di polizia e si precipita a casa. Una volta arrivata, confessa a suo figlio la verità. Aveva davvero avvelenato Stuart. Ronnie avverte che il mondo gli sta cascando addosso. Non riesce a credere che sua madre sia capace di un atto del genere. Velma insiste, dicendo però che si è trattato di un incidente. Ma per Ronnie non c'è molta differenza. Sua madre, direttamente o meno, ha causato la morte di Stuart. Ronnie la guarda e le dice che non ha altra scelta. Deve tornare alla stazione di polizia e confessare. Velma segue Ronnie con riluttanza fino alla sua macchina, sale a bordo e piange per tutto il tragitto. Una volta arrivata, ammette agli investigatori anche che Stuart non è la sua unica vittima. Confessa di aver ucciso sua madre e due dei suoi anziani clienti. Sebbene abbia confessato di aver ucciso tre persone, il procuratore distrettuale della contea di Robson, Joe Freeman Britt, prende la decisione di perseguire Velma soltanto per l'omicidio di Stuart Taylor. In realtà lo fa per un motivo ben preciso. Il processo non sarebbe durato molto e se qualcosa fosse andato storto e la giuria fosse tornata con un verdetto di non colpevolezza, avrebbe avuto altri tre casi da discutere. In un modo o nell'altro è determinato a condannare Velma. La donna è accusata di omicidio di primo grado e, se condannata, rischia la pena di morte. Joe Freeman Britt è esperto di omicidi capitali. Ha vinto così tante cause concluse con la sentenza di pena di morte che in seguito viene inserito nel Guinness dei primati come il procuratore più letale del mondo. Il processo inizia il 23 novembre 1978. L'avvocato di Velma, Bob Jacobson, non ha mai difeso nessun assistito che rischiava la pena capitale e sa che le probabilità di vincere la causa sono poche. Dal momento che Velma aveva già confessato di aver avvelenato Stuart, non cerca di convincere la giuria del contrario. Piuttosto si concentra sul fatto che Velma non aveva mai avuto intenzione di uccidere Stuart, quindi mancava nell'intento necessario per essere ritenuta colpevole di omicidio di primo grado. Se la giuria avesse creduto alle parole del suo avvocato, Velma sarebbe stata dichiarata colpevole solo di omicidio di secondo grado. Chiaramente avrebbe comunque affrontato il carcere, rimanendoci dentro anche per molti anni, ma quantomeno non avrebbe dovuto preoccuparsi di essere condannata a morte. Il procuratore distrettuale è convinto che Velma sapeva esattamente che stava uccidendo Stuart. Non è stato un incidente, ecco. Ritiene anche che se venissero presentate delle prove collegate alle altre tre persone che Velma aveva ucciso prima di Stuart, la giuria sarebbe concorde con lui e la incriminerebbe. L'avvocato di Velma sostiene che la donna è sotto processo per un unico omicidio e che l'introduzione di ulteriori prove legate agli altri casi sarebbe pregiudizievole per il caso in questione. Alla fine il giudice si pronuncia a favore dell'accusa. Sono consentite le ulteriori prove che collegano Velma alla morte di John Harry, Dolly e Lillian. Questa è una mossa che si rivela divastante per la difesa. Nel tentativo di dimostrare alla giuria che Velma non è colpevole di omicidio di primo grado, la difesa fa testimoniare diversi medici che si esprimono sugli effetti dei farmaci da prescrizione che Velma stava assumendo da tanti anni. I medici spiegano chiaramente alla giuria che quelle pastiche creano dipendenza e dunque avrebbero potuto compromettere il giudizio di Velma. Ciò nonostante, nessuno di loro crede che Velma non fosse in grado di intendere di volere al momento dell'omicidio. Dunque, pur considerando l'effetto delle pasticche, Velma era consapevole delle conseguenze delle sue azioni. Jacobson sapeva che Velma era l'unica persona che poteva testimoniare riguardo alla sua dipendenza. Così prende la difficile decisione di portarla sul banco dei testimoni per farla testimoniare in propria difesa. Se fosse riuscito a convincere la giuria che Velma era una donna dolce e anziana che lottava contro una dipendenza, forse avrebbero avuto comprensione per lei e non l'avrebbero ritenuta colpevole di omicidio di primo grado. La testimonianza di Velma sembra credibile. Racconta la giuria di come la sua dipendenza avesse preso il sopravvento sulla sua vita, di come la combinazione di diverse prescrizioni le avesse confuso la mente, rendendole impossibile capire con esattezza cosa stava facendo. Giura che non aveva mai avuto intenzione di uccidere qualcuno, voleva solo che quelle persone si ammalassero in modo da avere il tempo di recuperare i soldi che aveva rubato loro prima che potessero accorgersene. Velma però cede quando Geoffrey Manbreed avvia il suo controinterrogatorio. Durante la testimonianza diretta, l'imputata si era presentata come una donna dolce e mite, ma non riesce a contenere il suo disprezzo per il pubblico ministero. Velma discute con lui, gli risponde in modo sarcastico, afferma addirittura che in realtà nessuno era morto a causa del suo avvelenamento. Insiste sul fatto che tutti erano morti per cause naturali. Dimentica che alle vittime aveva fatto ingerire il veleno di nascosto? Io non credo. A questo punto spetta alla giuria a decidere il destino di Velma. Nella sua ringa conclusiva, Jacobson sottolinea che le azioni di Velma non sono sufficienti per emettere una condanna per omicidio di primo grado, perché non ne soddisfano i criteri. Geoffrey Manbreed invece sostiene che Velma è una donna malvagia che sapeva esattamente ciò che stava facendo quando ha avvelenato Stuart. Esorta la giuria a vederla per quello che è veramente, un'assassina a sangue freddo che non batteva ciglio mentre uccideva le persone a lei più vicine, compresa sua madre. Quando Geoffrey Manbreed conclude la sua ringa finale, Velma si mette ad applaudire in silenzio, una mossa sarcastica che fa abbassare la testa al suo avvocato, conscio dell'imminente sconfitta. Nessuno sembra sorpreso quando la giuria annuncia il verdetto. Velma è colpevole di omicidio di primo grado, viene raccomandata la pena di morte e il giudice consente. È il 30 novembre quando Velma viene condannata a morte. La sua esecuzione è programmata per il 3 febbraio 1979, ma questa è solo una formalità poiché tutti i casi di pena di morte vengono appellati, come già vi ho detto in dei video precedenti. Come molti altri prigionieri, Velma sostiene di essere una cristiana rinata grazie alla reclusione. Se ricordate anche Carla Tucker aveva affermato esattamente la stessa cosa, vi ho parlato di lei in un video precedente. In realtà Velma dice di essere sempre stata cristiana, anche nel periodo in cui avvelenava le sue vittime, ma ora che si trova di fronte alla realtà della propria condanna, abbraccia la religione con un nuovo fervore. Velma inizia a scambiarsi delle lettere con alcuni evangelisti, tra cui il reverendo Billy Graham. Tutti credono che stia dicendo la verità quando Velma asserisce di aver finalmente trovato Dio. Mentre le famiglie delle sue vittime sono molto meno colpite, soprattutto quando ricordano che Velma aveva pregato e cantato a un incontro di risveglio evangelico poche ore dopo aver avvelenato Stuart. Mentre i suoi avvocati sono impegnati a presentare appelli per lei, Velma si abitua alla monotonia della vita carceraria. A causa della sua condanna a morte vive isolata dalle altre detenute e ha poche opportunità di interagire con loro. Riesce ad avere brevi conversazioni soltanto con quelle che si ritrovano nelle celle più vicine alla sua, ma gran parte del suo tempo lo trascorre in silenzio. Le detenute che riescono a parlarle la vedono come una figura materna, una dispensatrice di buoni consigli. Le danno anche un soprannome, Mamma Mergi. Velma si sorprende nello scoprire che alcuni detenuti sono analfabeti e si offre volontaria per aiutarli a scrivere delle lettere ai loro cari. Anche lei riceve molte lettere mentre è nel braccio della morte, la maggior parte da persone che non ha mai incontrato. Si assicura di rispondere a tutti, spesso rimanendo nella sua cella per tutto il giorno. Inoltre inizia a scrivere la sua autobiografia che verrà pubblicata all'anno della sua morte. Il tempo passa lentamente nel braccio della morte. I giorni di Velma non trascorrono più nella nebbiosa foschia causata dal consumo di quelle pillole e la detenuta esprime rimorso per i crimini commessi. Impiega ore e ore a leggere la Bibbia e inizia a partecipare a un progetto di studio biblico settimanale. Lavora all'uncinetto, crea bambole e altri giocattoli per i suoi nipoti. Suo figlio e sua figlia le fanno visita regolarmente. Velma però è particolarmente elettrizzata nei giorni in cui anche i suoi nipoti vanno a trovarla. Passa altro tempo e il suo caso si fa strada lentamente attraverso il ricorso al processo di appello. Sembra che Velma non si troverà così presto nella Camera delle Esecuzioni. La Corte Suprema dello Stato della Carolina del Nord chiaramente respinge il suo appello nel settembre del 1980. Una data di esecuzione viene fissata per la fine del mese ma Velma ottiene una sospensione dell'esecuzione. Altre due date di esecuzione vengono fissate nell'ottobre e nel dicembre del 1980 ma ogni volta subentra una sospensione. I suoi avvocati continuano con il processo di appello e il 1981 trascorre senza che venga programmata l'esecuzione. Una nuova data viene fissata per il 22 marzo 1982 ma Velma ottiene l'ennesima sospensione mentre i suoi avvocati si preparano a portare il caso alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Più di 18 mesi dopo il 3 ottobre 1983 la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiuta di esaminare il caso. All'inizio del 1984 Velma percepisce che il suo tempo ormai è agli sgoccioli. Anche i suoi figli lo avvertono. Ronnie sa che c'è una cosa che deve chiedere a sua madre finché ne ha ancora la possibilità anche se non è davvero sicuro di voler conoscere la risposta. Da anni una domanda lo assilla. Velma aveva ucciso anche suo padre? O la morte di Thomas Burke era stata davvero un incidente? Velma gli dice che la maggior parte dei dettagli di quel giorno lontano sono perduti dalla sua memoria ma ammette che anche in quel caso ha avuto un ruolo fondamentale. Thomas era svenuto sul letto, questo corrisponde al vero, ma non stava fumando. Era stata Velma ad accendere una sigaretta per poi gettarla sul letto su cui Thomas era sdraiato poi aveva lasciato la stanza chiudendosi la porta alle spalle. Sebbene queste parole siano difficili da pronunciare, Velma ha bisogno di confessare la verità, quella integrale prima di essere giustiziata. Una volta esauriti gli appelli, l'unico modo in cui Velma può evitare l'esecuzione è aggiudicarsi la clemenza del governatore della Carolina del Nord. Quella della pena di morte è sempre una questione controversa, dunque c'erano anche molte persone contrari all'esecuzione di Velma. Il governatore James Hunt ascolta attentamente sia sostenitori che detrattori, ma alla fine decide di negarle la clemenza. La sua esecuzione è prevista per il 2 novembre 1984. Velma trascorre il suo ultimo giorno di vita incontrando la sua famiglia e pregando. Rifiuta l'offerta dell'ultimo pasto optando per un semplice spuntino, riccioli di mais e Coca-Cola. Appare leggermente nervosa e tesa, ma anche rassegnata al suo destino. Prima di lasciare la sua cella per l'ultima volta, Velma prende la comunione dal suo pastore. A quel tempo la Carolina del Nord consentiva ai detenuti rinchiusi nel braccio della morte di scegliere se essere giustiziati mediante iniezione letale o sedia elettrica e Velma opta per l'iniezione letale. Viene condotta nella camera delle esecuzioni e legata a una barella. Quando le viene chiesto se vuole pronunciare le sue ultime parole, si scusa per tutto il dolore che ha causato nel corso degli anni e ringrazia tutti i suoi sostenitori per essere stati al suo fianco durante l'intero periodo di prigionia. Poco dopo le due, il personale le somministra tramite flebo due farmaci diversi. Il primo, simile all'anestesia, le ottunde i sensi. Il secondo le ferma il cuore. Pochi minuti dopo essere entrata nella camera delle esecuzioni, Velma esala il suo ultimo respiro. Viene dichiarata morta alle 2.15. Velma è la prima donna a essere giustiziata negli Stati Uniti da quando è stata ristabilita la pena capitale nel 1976. E a dirla tutta, a mio avviso è morta in modo molto più pacifico di qualsiasi sua vittima. Nonostante io sia a contraire alla pena di morte, lo sapete, ne abbiamo già parlato sotto altri video, io propendo più per il carcere a vita. Però, questo è. Questa è la storia di Velma. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Insomma, come al solito, sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!